La prestazione con la Feralpi è una prestazione di alto livello, è stata una prestazione di alto livello da parte di tutte e due le squadre, però noi siamo stati più squadra, secondo me. E domani ci dà un'altra partita da fare di alto livello, perché è una squadra che pressa, la limolese, è una squadra che ti fa giocare poco, gioca fra le linee, quindi bisogna essere molto equilibrati, molto attenti nella fase tattica, ma bisogna avere anche quel pizzico di follia che ti fa vincere le partite, quindi noi di follia ne abbiamo abbastanza. Tutte le partite sono difficili, non esistono partite semplici, da quando è arrivato a Zori hanno vinto contro il Carpi, hanno fatto due a due gol su Tirol, una a uno con la Triestina, comunque hanno fatto dei buoni risultati, ma questo non significa, vanno rispettati. Il campionato è un campionato dove le insidie sono alle origini del giorno, quindi affrontare il Vicenza secondo me è una motivazione in più, perché comunque è la prima in classifica, sono tutte cose che bisogna mettere nel piatto. Domani ci vuole una prestazione forte, ci vuole una prestazione da squadra e ci vuole quella partita da squadra vera, allora sì che possiamo portare a casa punti importanti. I nostri tifosi sono un'arma in più, un qualcosa in più e domani sì ci saranno i nostri 600-700 tifosi, ancora di più bisogna essere bravi a cercare di fare una prestazione forte, perché domani ci vuole una prestazione forte per venire a casa con risultati importanti.